Vucinic Il tiro a corso di Lavezzi, Giulio Seggio, la sporca, non c'è nessuno nell'Ambri che può intervenire Fisca Bergonzi, parte Carcano, Giulio Seggio con i pugni La rincorsa parte Lavezzi, palla sottoporta, a limite il pallone, raccolto con il sinistro Molto bene La palla che termina di poco sopra l'incrocio dei pali Palla nella zona di De Rossi Chiuso da due giocatori, perde il pallone, Lavezzi accelera, l'insieme Simplissio, Lavezzi velocissimo Parte Lavezzi, palla in verticale, grande suggerimento, in area di rigore, attenzione al contatto Liguan, calcio di rigore, Alcaramsic, calcio di rigore Fisca Bergonzi, ricorsa breve, parte Cavani, rete, antilocchio, la legione, rete Nel pallone raggi è entrato, il pallone raggi è entrato Cavani fa una fesseria nel lamentarsi sul pallone Perché se il pallone non è entrato, insomma, combina un bel guaio, però il pallone è entrato C'è allargato Amsic, attenzione Amsic che si accentra, poi rimane in zona tiro L'apertura per Zuniga, cercare Cavani, alto rete, attenzione però, attenzione Fuori gioco Fuori gioco c'era stato un clamoroso autogoll Bucicic Tiro di Meness E c'è la parata di De Santis in calcio d'angolo Nella stessa profonda di Aronica Lavezzi, posizione regolare Lavezzi davanti al portiere, esce giù lo Sergio Cavani a portavuoto, a palo alto, a sopra la traversa Aronica, larga per Lavezzi In testa per Cannavaro, posizione regolare di Cannavaro Il giocatore arriva a dire Sentarla allora